Chi è Spider-Man? È un criminale, ecco chi è. Un mercenario, un pericolo pubblico. Che cosa ci fa sulla mia prima pagina? Mr. Jensen, sono moglie sulla uno, ha bisogno di... Mr. Jensen, c'è un problema per la pagina 6. È prima pagina, il problema sta zitto. Sì, signore. Beh? Fa notizia. Sono clienti importanti, non possono aspettare. Beh, impareranno. Ha salvato sei persone da quel vagone della metro. Sì, e magari ha provocato l'incidente. Succede qualcosa e il viscido verme è sempre presente. Guarda qui, scappa dal luogo dell'incidente. Questo che ti dice? Non sta scappando, sta probabilmente andando a salvare qualcun altro. È un eroe. E perché porta una maschera? Cos'ha da nascondere? La signora chiede se lei vuole cinza o ciniglia per la sala da pranzo. Quello che costa meno. Mr. Jensen, stia a sentire. Abbiamo venduto la pagina 6 a due clienti, e ora tanto Messi's che Conway's hanno tre quarti della stessa pagina. Abbiamo esaurito quattro ristampe. Esaurito? Tutte le copie. Domattina Spider-Man, pagina 1, con una foto decente. Passa Conway's a pagina 6. Escluso pagina 6. Mettilo a pagina 8, sconto 10%, anzi 5%. Non si può fare... Fuori! Il problema è che non ce l'abbiamo una foto decente. Eddie ci sta provando da settimana e si riesce appena a intravederlo. Oh, è pure timido. Riusciamo ad avere una foto di Julia Roberts in tanga e non rimediamo una foto di questo essere? Metti un annuncio in prima pagina. Premio in denaro per una foto di Spider-Man. Non vuole essere famoso? Ma io lo faccio diventare famigerato! Questa fa schifo. Idem. Idem. Mega schifo. Ti do 200 dollari per il mallocco. Mi sembra un po' poco. Dalle a qualcun altro, allora. Signore, sua moglie dice che le piastrelle per il foyer sono esattite. Dille che ci mettiamo un tappeto. Seduto. Dammele qua. Te ne do 300. È la tariffa per i freelance. Butta giù la prima pagina, mettici questa foto. Titolo? Spider-Man. Eroe o minaccia? Foto esclusive del Daily Bugle. Minaccia? Ma stava proteggendo quel furgone portavalori dai... Sta a sentire, avvocato. Tu fai le foto e io mi invento i titoli, ok? Ti sta bene così? Sì, signore. Fico. Da questo ha la ragazza all'ingresso. Pensere a lei a pagarti. Io vorrei un lavoro, signore. Niente lavori fissi, solo freelance. È la cosa migliore per uno della tua età. Tu portami altri scatti di quel pagliaccio che fa tanto notizia e magari te li prendo pure. Ma guarda che non ti ho permesso un lavoro. Una bistecca. Ti mando una bella bistecca per Natale. Di più non posso. Fuori dai piedi. E portami altre foto. Spider-Man e Goblin. Già, Goblin. Che te ne pare? Mr. James. L'ho inventato da me. Oggi questi mostri devono avere un nome. Mr. James, Spider-Man. Hoffman. Sì? Chiama l'ufficio brevetti, deposita il nome Goblin. Voglio 10 cents ogni volta che si dice. Non è meglio il pericolo verde? Spider-Man non ha attaccato la città. Stava cercando di salvarla. È una calunnia. No, che non lo è. Ti sbagli di grosso. La calunnia è verbale. La stampa è rifamazione. Lei non si fida di nessuno. Ecco il suo problema. Mi fido del mio barbiere. Ma sai, il suo avvocato. Levati dai piedi. Che mi faccia causa. Si arricchisca come una persona normale. È così che questo paese è... Jameson, brutto mermen. Chi è il fotografo che fa le fotografie di Spider-Man? Non lo so chi è. La sua roba mi arriva per poco. Bugiardo! No, lo giuro. Il fotografo è l'unico che può condurmi a lui. Io non lo so chi è. Sei proprio inutile, brutto... Mettila subito giù, gorilla. Parli del diavolo! Spider-Man, lo sapevo che voi due eravate complici. Lo sa... Ehi, ragazzino. Lascia che mamma e papà facciano due chiacchiere. Parker è l'asse licenziato. Perché? Cani dietro al fritbee? Gabbiani sulla riva, ricoglioniti alla scacchiera? Capo! Non ora! Pensavo che il Google potesse mostrare un altro lato di New York. Mancano sei minuti alla chiusura, Jonah. Ci serve la prima pagina. Parker, io non ti pago per fare l'artista delicato. Ti pago perché... Ancora non ora! Perché quello psicotico di Spider-Man posa per te. Spider-Man non vuole altre fotografie. Lei gli ha messo tutta la città a conto. Fatto di cui vado molto fiero. Ora, levami queste dolci nature dalla scrivania prima che cade in coma diabetico. Capo, c'è sua moglie in linea. Ha perso il libretto degli assegni. Grazie della buona notizia. Mr. Jameson, la prego. Non c'è qualche scatto che può usare. Ho bisogno di soldi. Oh. Miss Brent? Sì? Mi porti un violino? Cinque minuti alla chiusura, Jonah. Ok. Metti la foto di un pollo marcio. Ecco il titolo. Panico d'avvelenamento investe la città. C'è cibo avvelenato? Ho un po' di nausea, sì. Ecco qua, Mr. Jameson. Alcenso. Robby, ecco la prima pagina. La minaccia mascherata terrorizza la città. Ti ho detto che non è una minaccia. E io ti ho detto... Ok, lascia stare. Ti do centocinquanta. Trecento. È una rapina. Ci sto. Dallo alla ragazza. Grazie. Bye bye. Ne parla tutta la città, Robby. Chiacchiere, voci, panico nelle strade. Si va bene. Scienziato pazzo si trasforma in non so quale mostro. Quattro bracci meccanici sono dati bene al suo corpo. Un certo otto, Octavius si ritrova a otto estremità. Ha fatto tombola. Hoffman! Sì. Che nome gli diamo a questo? Dottor Octopus. Fa schifo. Capitan Calamaro? Peggio. Dottor Strange. Niente male. Ma già occupato. Frena! Ci sono. Dottor Octopus. Eccezionale. Lo so da me. Dottor Octopus. Nuovo malvagio di zona. Doc Oc. Geniale. Che c'è? Vuoi un aumento, aria? Capo, ho trovato Parker. Ti ho cercato tutta la mattina. Perché non paghi il telefono? C'è uno scienziato fuori di testa. Io non ho fotografie. Dice che Spider-Man era presente. E tu dove eri? A fotografare Scoiattoli? Licenziato! Capo, la festa al planetario. Ah, giusto, riassunto. Mi servi, vieni qua. Quanto ti intendi di alta società? Ah, eh... Beh, io... Il mio cronista mondano si è beccato una palla da polo in faccia. Non mi resti che te. Festa grande per un eroe americano. Mio figlio l'astronauto. Mi può pagare anticipato? Dici davvero? Pagarti per cosa? Per startene lì, al planetario, domani alle otto? Sei ancora qui? Parker! 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 Ma sei sordo? Ti ho chiamato tre volte, forza! Credi che ti paghi per stare a bere champagne? Ecco, fanne una di mia moglie col ministro Bella cravatta Dai, faccene una col procuratore Bel vestito Oh, fammene una del sindaco con la sua amichetta Moglie Tocco a piede libero Tesoro, è un matrimonio, non una bancarotta Caviale? Ma perché? Viene lo zan Prendi formaggio e crackers e magari qualche mini wustel Capo, questo spazzino dice di avere qualcosa che le può interessare Non mi dire che hai la testa di un extraterrestre Sareste in terzo questa settimana Ma dove diavolo l'hai preso questo? Nella spazzatura Nella spazzatura Nella spazzatura Deve aver rinunciato Ha gettato la spugna Ha abbandonato la sua triste solitaria mascherata Finalmente l'ho fregato Il quarto potere ha trionfato Sì, 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 però senta Credo che mi spetti una cosetta per questo Ti do 50 dollari Rimedio di più su internet Ok, cento Miss Brent, gli dia i suoi soldi e un pezzo di sapone Sua moglie è ancora in linea Fiori Fiori, e quanti? Butta ancora soldi e raccoglierai margheritine sulla mia tomba Prendili di plastica Ti lascio, notizia bomba Ancora nessuna notizia su dove si trovi la fidanzata di tuo figlio Mi dispiace, Jonathan È colpa mia Ho costretto Spider-Man alla fuga Era l'unico che avrebbe potuto fermare Octavius Sì Spider-Man era un eroe Solo che io non l'ho capito Era un Ladro Ha rubato il costume Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere È una minaccia per la città Voglio che quell'arachnoide a Rappicamuri sia processato Voglio vederlo impiccato alla sua ragnatela Io voglio Spider-Man Chiama Deborah Quella del Catering Dille di non aprire il caviale Stufiscimi È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato io e i ragazzi del marketing Come sapete la tiratura del giornale va piuttosto bene Certo no quanto il New York Times O il Daily News O il Posto O altri giornali minori Continua Che c'è? La sua pressione Mr. Jameson Sua moglie mi ha detto di dirle controlla i tuoi mei E tu di a mia moglie Grazie Per cui le propongo questa campagna Il Daily Bugle? Certo è ovvio Fico Ultra fico È mia modestamente È magnifico Questo devo dire di Erickson Un tipo strano Con un paio di caffellate si scatena È mitico Mia anche questa È l'ora della pillola Non quella Non quella Beva molta acqua Grazie Continua Beri beri boberi Banana nana boberi È occupato Oh no Voglio parlare con te bellezza Cos'è questo profumo? Niente Si chiama Io ci sto E il tuo invece? Si chiama Sparish Fuori È l'idea più scema che tu abbia mai avuto E ne hai avuto di colossali Impressione Ehi dove credi di andare? E tu chi sei? L'hai assunto l'altra settimana Un freelance Ah sì? Cos'è questa puzza? È Brock signore Edward Brock Junior Chi? Wow le posso dire Gran bella camicia? Ecco L'incidente della gru Noti l'esposizione Mi piace la mia camicia Ciao Betty Ciao Peter È meglio che vai dentro C'è uno nuovo Cerca di vendere le foto di Spider-Man Ah Grazie Parker Arrivi tardi Bruckner ti ha battuto sul tempo Brock signore Edward Brock Junior Le ho portato questa È lui questa Frena come hai fatto? Io non t'ho visto Come sei salito? Arrampicandomi Ero sull'asta della bandiera L'asta della bandiera Allora quale usiamo? Quella di Bestie È meglio È meno cara Congratulazioni Brock Utiamola tua Ti do 50 dollari Alla grande JJ Sono il vostro uomo Ne so più io di belle foto Di qualunque fotografo della città Sa la fotografia Non è questione Senza offesa Di aste di bandiera Per carità È questione di luce Composizione Dramma Voglio un posto fisso signore Ho una ragazza che Intendo sposare Ecco Come dire Ho questo stupido Piccolo sogno Di lavorare per uno Dei più grandi direttori Di giornale Dei nostri tempi J. Jonah Jameson Beh abbiamo un posto libero Johnson si è dimesso Vero? L'hai cacciato via Ehi un momento Io faccio ottime fotografie E sono qui da tanto tempo Se c'è un posto libero Mr. Jameson Sono io che lo merito Ha ragione Jonah Peter è qui con noi da anni E ha fatto un ottimo lavoro Tu vuoi un posto fisso E tu vuoi un posto fisso A chi interessa Quello che voglio io? A me? Chiudi il becco Fuori Voglio che il pubblico Veda Spider-Man Come il piccolo criminale Che è falso Fatto col pongo Lo dovete beccare Spider-Man Con il dito Nella marmellata Chi mi porta Quella foto Avrà il posto Che aspettate Il capodanno cinese Via 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 Ci penso io capo Parker Parker Ma dove? Mi serve un fotografo Ehi ragazzina Lo vuoi un lavoro? Ma che me ne faccio Di un lavoro? Lo sai quanti anni ho? Ok Quanto vuoi per la macchina? Cento dollari Capo Dico Sei matta? D'accordo Piccola imbrogliona Tieni Ma che? Pellicola non compresa Ciao a tutti Capoo Gio Tieni Terminulo Mig predators Passo Mi Truc Grazie.